Lili Gruber è la giornalista per noi italiani, ed è anche una donna il cui fascino e la cui sensualità aumentano con gli anni che passano Lili Gruber è la giornalista per noi italiani, ed è anche una donna il cui fascino e la cui sensualità aumentano con gli anni che passano Professionista affermatissima, ha bisogno di una sana alimentazione per resistere allo stress quotidiano, e ci svela i suoi segreti di bellezza attraverso le pagine di Io donna Poche ore di sonno, ma tanta radio e pasti controllati, la mia giornata è scandita da ritmi asburgici La sera non mi addormento mai prima del luna, perché per smaltire l'adrenalina della diretta ci vuole un po' Ma poi mi sveglio presto Può capitare che il sonno sia svanito già alle 4 Io amo la radio Comincio con la rassegna stampa su Radio 1, poi Radio 24, il GR delle 7 Comincio con la rassegna stampa su Radio 1, poi Radio 24, il GR delle 7 I giornali li leggo a colazione Passa dunque a parlare di cibo, a colazione preparo il muesli, senza l'uvetta ma con semi di girasole, piocchi d'avena Magari aggiungo anche mandorle, nocciole Latti di murca E a pranzo? Mangiali. Il suo peccato di gola? Nel weekend ammette di lasciarsi andare anche con un bicchiere di champagne E a pranzo? Mangiali. Il suo peccato di gola? Nel weekend ammette di lasciarsi andare anche con un bicchiere di champagne E a pranzo? Nocciole E a pranzo? Nel weekend ammette di campi